ciao a tutti questo nuovo video vi farò vedere come da un semplice tappo di boccazza si può fare una ruota per far girare la ruota allora direi subito di mettere queste cose qui stavo per dire allora piano dopo facciamo così 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 e incolliamo un magneto e con un altro magneto andiamo a far combattere il nero oppure bianco con il nero o meglio il nero con il nero oppure il bianco con il bianco in ogni di queste cose di questo stile e do bisogna alzarlo un po bisogna alzarlo un po ecco qua campo schiaccio schiaccio la pallina e lo metto e si fa una ruota e gira detto e gira ho detto e gira e non gira e non gira e non gira ora volevo fare vedere comunque se l'avrei fatto meglio giriamo infatti come avete visto un po ha girato allora facciamo così vi faccio vedere un trucco per fare la piramide fa fatte una cosa così un grosombo con un asto in mezzo poi fate così fate in modo che si pieghi un po da così a così poi infilate un'altra asta in mezzo ai due pezzi mancanti per fare una cosa così serve uno due tre quattro palline e uno due tre quattro cinque e sei aste e forse fare un altro video non non lo so comunque sia ciao